Gli affari per Facebook continuano ad andare molto bene e oltre le aspettative degli analisti, come dimostrano i dati sul suo ultimo trimestre da poco diffusi. Tra ottobre e dicembre 2016 la società ha realizzato 8,81 miliardi di dollari di ricavi, e un utile netto di 3,57 miliardi di dollari. Entrambi i risultati hanno superato le previsioni degli analisti, che avevano ipotizzato circa 300 milioni di dollari in meno di ricavi rispetto al risultato comunicato dal social network. La maggior parte del fatturato di Facebolog deriva dalla pubblicità, ed è stata realizzata per l'84% dalla navigazione su dispositivi mobili. Questo risultato, che conferma più o meno la percentuale del trimestre precedente, è la dimostrazione che Facebolog ha completato il suo passaggio verso il mobile, con smartphone e tablet al centro delle sue attività e innovazioni, a scapito dei computer tradizionali sempre meno usati dagli utenti per restare in contatto con i loro amici.